cari amici di piedi pesanti bentornati in questo video podcast che è il secondo di questa nuova diciamo collezione che vedrà anche i nostri podcast finalmente e fortunatamente su spotify vai luca fai la maestra di recupero tu va eccoci qua ragazzi sì come sempre vi dico che questo qui è ormai diventato il format del lockdown e come dice vermanno è arrivato il vero podcast quindi piano piano fortunatamente e speriamo il prima possibile non faremo più questo tipo di video su youtube ma li faremo inizialmente li affiancheremo con il podcast e poi questo tipo di video quindi discussione andrà su podcast e speriamo di poter fare quanto prima rimuovo le proprie delle auto proprio così esatto e vabbè tra le altre cose specifichiamo quindi che basta cercare i piedi pesanti su spotify potete anche ascoltare questo 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 podcast video insomma tanto le foto della protagonista di oggi ovvero la nuova bmw serie 4 coupe le potete poi reperire in rete perché non è che siano poi una nostra esclusiva dimettiamola mettiamola così sono girate già da due giorni prima della presentazione e poi già si ventilava la cosa che faceva paura infatti ricordo che quando ne parlammo qualche settimana fa in quel confronto che tu ben ricorderai tra giulia colifoglio e bmw m3 alla fine avevamo un po ipotizzato che la situazione potesse sfogliare in qualcosa di simile sì speriamo che non succeda all m3 speriamo che non succeda all m3 però oddio oddio non lo so ma di cosa stiamo parlando ma stiamo parlando ovviamente della 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 calandra ricognita esatto esatto di questa di questo doppio rene rovesciato ingrandito spostato non lo so a qualcuno piace qualcuno su facebook piace a tutti ovviamente e giustamente i gusti non sono universali sono sono belli perché sono vari quindi giustamente ci fa anche piacere è anche un modo attraverso il quale possiamo confrontarci se ogni volta diciamo a bello bello avete ragione bello bello invece in questo caso no no non sarebbe non sarebbe esatto è carino vedere che cosa ne pensano gli altri che cosa ci dicono e su facebook abbiamo un po come si dice iniziato questo dibattito questa no dibattito una conversazione diciamo sì su su instagram è stata abbastanza un plebiscito nel senso che la maggior parte delle persone ho notato ho notato tra le tra i commenti più divertenti c'è stato il doppio polmone anziché il doppio rene è questo molto molto carino l'ero perso e banni il coniglietto si banni sarebbe quello no quello di deluca proprio banni il coniglietto ah ecco l'ho perso deluca questo è una grave mancanza e comunque io voglio spezzare una lancia sulla calandra nel senso ce la spezzerei sopra però a me bmw a me bmw piace cioè partiamo da questo presupposto a me bmw anche a qualche tempo fa piaceva ti posso dire che ancora piace in alcuni modelli e ti posso anche dire che sentendo gli appassionati del marchio tutti hanno mostrato un'esigenza o una voglia nel chiedere a bmw di differenziare questo questa serie 4 dai dalla serie 3 ma anche da brand diversi no creare qualcosa di completamente diverso di completamente nuovo sì sì forse un po non lo so luca allora io posso essere sincero io non è la calandra per me la cosa che non mi fa piacere questa macchina la calandra sti cazzi alla fine audi ripeto audi ha lanciato una tendenza che tutti seguono io rimango della mia idea del fatto che audi a livello di tante cose stia facendo scuola a tutti gli altri e bmw ha seguito quindi non è tanto la calandra il fatto è che è proprio questa diversità che è coraggiosissima che apprezzo in un marchio tedesco non farmi la piacere cioè questa linea così rotonda troppo di rotuna con le bmw che ci piacciono è orientale qualcuno diceva coreana sì a me sembra così giapponese quasi una lexus no beh sì ha qualcosa io io questa macchina nel complesso mettendo la mano lì proprio sul muso come devo dire la trovo molto bella cioè è un'auto che sotto molti punti di vista a me piace perché poi parliamoci chiaro è un po la bmw coupé alla portata ma tra virgolette non di tutti ma comunque non è nell m4 nell m6 né tanto meno il 4 e 20 per certi aspetti ma c'è quindi è anche un po con la bmw molto desiderabile e sinceramente mi dispiace vederla così perché la serie 3 è di una bontà incredibile come vettura poi presto la proveremo e quindi avremo modo anche di far capire cosa intendiamo però sì io a me la serie 3 nuova piace esatto io io ho paura sicuramente serie 3 e serie 5 nuove mi piacciono tantissimo e questo forse che mi ha mi lascia proprio interditto della serie 4 ora io devo essere sincero nel caso mio a me la serie 4 non è mai piaciuta ma nel senso che allora la precedente è nato oggettivamente molto bella sia la serie 3 che la serie 4 quei frontali che erano secondo me la perfezione stilistica però non è sempre sembrata non ho mai capita ecco è una colpa è una mia colpa è una mia no vabbè è comprensibile questo nel senso no no beh vista come me l'hai fatto come l'hai detto poco fa tu cioè alla fine il coupé della bmw che è desiderabile perché alla fine è accessibile a tutti prende un senso alla fine ecco è un altro che secondo me in nessuna occasione dovrebbe farti sfigurare in nessuna occasione dovrebbe annoiarti nessuna occasione dovrebbe lasciarti a piedi quindi e voglia trovare un difetto vorrei dire però con questa nuova generazione a me viene un po a mancare quella cazzutaggine che la macchina aveva prima bravo proprio quella cazzutaggine a me dispiace a me dispiace ma non è neanche una questione di aggressività perché una persona cioè si può essere aggressivi anche se si ha una faccia da imbecille quindi tutto sommato rimane aggressiva ma non è cazzuta cioè è aggressivo con i cattivi dei film che non valgono nulla poi alla fine gli hanno fatto allora gli hanno fatto la cura serie 1 ecco è quella è proprio una cura ottima cioè l'hanno femminilizzato secondo me non per niente non a caso nell'immagine promo che c'era una signorina certo una modella sopra certo vero vero io io non ho mai dire io non posso fare a meno di pensare che bmw giustamente stia guardando all'altra metà del cielo perché l'altra metà del cielo ha sempre più esigenza voglia di comprarsi una macchina per i cazzi suoi scusate il termine è vero è vero è vero un'auto e e stia dedicando quindi alcuni modelli specifici all'altra metà del cielo tra cui la serie 4 nuova e quindi guarda quindi io comincio a vedere veramente la serie la serie 2 dipende quale la serie 5 sta diventando complicato anche quello gran coupè normale abbiamo scritto un po anche a tal proposito però sì probabilmente tu ti rivolge la serie 2 pura quella che sarà ancora attrazione posteriore basata sul sulle tre appunto però mi piace esattamente questa tua visione mi piace questa tua uscita no nel senso la interpreto così la serie 4 diventa l'auto di lei la serie 3 l'auto di lui cioè sono così quasi diverse bravo che effettivamente ragione io non ci vedo quella mascolinità o comunque quella io ci vedo proprio così è vero è un'auto dagli intenti la lei che non vuole il SUV attenzione la lei che non vuole il SUV quindi la lei californiana chiaramente perché anche vuoi molto forti poi bisogna fare anche questa è certo questa analisi cioè considerare che poi fondamentalmente in italia c'è un mercato sempre un po particolare sempre un po anomalo invece boh te la butto così basta vedere quei programmi americani che fanno vedere non so che cosa succede sulle strade spesso ci sono bmw del genere in mano a ragazze a donne quindi hai perfettamente ragione hai perfettamente ragione e ti voglio provocare anche con un'altra piccola domandina un altro piccolo argomento interni beh belli non si può dire che siano brutti belli mi piacciono sono molto simili a quelli della serie 3 nuova c'è anche un po di giulia secondo me negli interni della serie 3 nuova c'è quello schermo lì lo schermo principale nella giulia c'era tanta dmw nei nuovi interni dmw c'è tanta alfa romeo no comunque esatto quello schermo che ho messo tra l'ipad della tedesca e lo schermo integrato all'italiano si stanno un po scambiando le idee mettiamola così come giusto che sia uno va a copiare dal meglio che c'è marchione all'epoca andò a copiare da dove dovevano andare un po di audi un po di tv si è giusto che adesso i giochi si siano non sto dicendo che ragione no capito benissimo andò a prendere il punto d'altronde ispirarsi non è mai stato un delitto quindi voglio dire l'hanno sempre fatto tutti anche se qualcuno lo nega qualche designer famoso nega e così tutti ci sono ispirati a qualcun altro certo certo e però ecco la cosa che non mi riesce ad andare giù questo lo sai non è perciò ti ho provocato un po sei il gesto della mano che si lamenta sì sì ormai ormai è diventato il tuo marchio di famiglia che vedo il nuovo ecco io ogni volta che vedo il nuovo volante del radio mv faccio la mano che si lamenta perché avevano il volante che era stupendo quello di audi e quello di piazza romeo che è venuto molto dopo tra l'altro quindi in realtà insieme a quello di audi il volante più bello in circolazione e mi vanno a fare un affare cicciotto si sono tristemente riusciti a rovinarlo facendo in questa declinazione una variante goffa me l'hanno esaticizzato perché alla fine io mi ricordo negli emirati per esempio le audi avevano il volante a tre razze dell'audi non era ben visto allora piaceva il volante a quattro razze bello cicciotto bello opulento e immagino quindi anche un po più in là in asia e quindi immagino che visto che comunque bene amare il DMV sta puntando lì eh sì sono quelli i mercati il volante esatto sia sia proprio questa cosa però io dico cazzo ma ragà a DMV ma fate solo scegliere il volante è un'involuzione pazzesca direi da questo punto di vista poi personalmente a me l'interno piace molto eh sì volante a parte che l'avrei avuto più snello più elegante eh l'interno piace o un po' da ridire forse sulla manopola lì del cambio su questa leva leva a manopola a comando è un po' strana però mi piace il fatto che non c'è quel nero lucido lo ripeterò fino all'ultimo dei miei giorni diffuso un po' ovunque ma che ci sia questo finto o vero eh per l'amor di dio alluminio metallo eh no io 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 credo guarda come qualità gli interni radio sono migliorati sì moltissimo moltissimo in maniera in maniera infinita gli ultimi sono veramente di di grandissima qualità quindi non ho dubbi e non ho certo pensare tranquillamente di scommettere che sia alluminio metallo sì sì io ne sono ne sono convinto lancio una piccola provocazione una piccola così la devo lanciare perché siamo a fine video così proprio così così va così eh proprio riprendendo il meme il video lì famoso eh sarebbe stata molto bella eh poi sarà l'abitudine sarà tu però con un doppio rene sì magari un po' più ampio ma non così ampio e sarebbe stata secondo me bella bella eccolo quello lì me l'ha piaciuto moltissimo mi sembra il buon Luca mi è piaciuto veramente moltissimo e ti dirò sì 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 tristemente che anche osservando il posteriore il tre quarti posteriore mi sembra come detto tu prima un po' Lexus sì andiamo di serie tre dai e valora dovessimo proprio stare da quelle parti dicono ecco attenzione dicono che anche la serie tre il posteriore ricorda molto Lexus a me a me piace tantissimo anche se lo trovo lo trovo profondamente mi piace piace anche a me proprio mi sembra quella di un buon ignorante cazzuta uscita dagli anni 80 mi piace da impazzire vero verissimo ragazzi noi vi salutiamo attendiamo anche il la vostra opinione quindi fateci sapere cosa ne pensate e e nada alla prossima ciao ragazzi grazie